salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di new test run allora sono andato al caso al fabbro usando il ramo perché ho detto cerco di farla finita da un po di cose e ci sono arrivato l'ho fatta vi faccio vedere com'è ho fatto il livello non mi ricordo se l'ho fatto devo ancora farlo faccio vedere com'è è così finalmente 87 non sono ne tante 120 130 che troviamo però che ci posso fare comunque adesso fa 100 644 vediamo con usando le cote che ne avevo tante quanto arriva a farci no scarta no che scarta usa a perché sono al santuario ovviamente e non mi fai usare allora cote dove sei ho messo a posto qua perché mi è riscordato di mettere ho messo due volte di sciurica di fuoco invece metterò sciurica normale e purtroppo sono tonto e non ci si fa niente allora cote usa 6 vediamo un po mi ricordo quanto avevo prima l'arma comunque 674 sicuramente più di prima che la forza simo auto alla finita da anima 87 e non è tanto però è qualcosa mi ha aumentato alcuna stati sono metà di questo ovviamente è aumentato di livello e quindi adesso va un po meglio niente altro non penso ci sia ritorniamo qua andiamo avanti speriamo bene adesso devo fare più danni abbiamo anche gli shuriken che non sono male fanno non farò come kunai però comunque il suo che lo fa vedete non è male nel 4 diciamo di noi vediamo questa quanto fa abbastanza dai dai sono mi dispiace aver fatto quello che ho fatto è una strategia speriamo sia buona vediamo un po come va questo facciamo così è così almeno ci liberiamo gli stichetti e volpi perché se le loc e quelle sono agili si girano non mi fanno cadere purtroppo lo so questo li ho fatti è più di qua così almeno mi sono portato avanti tutte le lebbie sono sparite almeno siamo a posto volevo prendere il dovuto qua perché l'abbiamo ucciso e i soldi mi servono come sono poveri solo c'è più un soldo non ho più niente gli ho usati tutti mamma mia che vergogna e vabbè potevo usare le armi nuove è cazzo però non ho dimenticato dicevo potevo usare le armi nuove nessuno me lo impediva è però dai mi sono affezionato poi voglio vedere anche è una sfida maggiore diciamo fare far così vediamo come va a finire sicuramente male devo andare di fuori perché devo girarmi ritorniamo dicevo al punto di primola chi è stato a dicevo che aveva fatto male lui invece è stato cazzo la signorina sempre attenta ai miei bisogni allora vediamo un po come fare e qui abbiamo aperto benissimo quindi con lui a fare adesso di qua eravamo andati e va benissimo quindi abbiamo aperto dobbiamo andare di là voglio vedere di qua cosa c'è perché lì abbiamo aperto sì un attimo solo va che questo mi spacco il culo se no ha spaccato il culo lo stesso è porca vacca ok sta appuntando la signorina lì non ho preso bene la mira riprendiamoci questo dopo la cedremo non so dove sia ma penso che si passi da qua sto punto quello che abbiamo aperto è questo e continuiamo da qua perfetto e qui c'era un signore più carino carino eh vabbè però almeno facciamo così no l'accidenti a te oh vedi mi ha preso l'indisi adesso stiamo attenti eh usiamo il questo eh che cazzo proprio a vuote è andato perfetto eh perfetto il cazzo perfetto porca vacca di quella vacca vabbè è andata così che ci volete fare guarda se c'è un codano ma c'è qualcosa effettivamente tutti l'incoglioniti qua se no eh oh cazzo allora vediamo un po' io non voglio assolutamente trovarmela dopo quindi farei così eh buona notte se me ce la posso fare ecco adesso se vuole venire viene eh codama penso no non qua e qua lo cazzo è codano è la polpa è venuta quindi se lei è venuta io posso andare là in qualche modo non ho visto come ha fatto da qua no cazzo ha fatto proprio il giro ma guardate cosa c'era lì e se io vado là dopo come cazzo ci ritorno su ecco è molto strano sta cosa fatevi vedere va che cazzo c'è qua ha un qualcosa da prendere pensate voi è anche buono a quanto pare pietra la rima è grande io guardate se vado lì come cazzo ci ritorno là facendo il giro può essere potrebbe esserci qualcosa di buono questo scenario è molto denso di cose quindi vorrei vederlo se poi faccio la figa di merda eh per te venia porca miseria allora tanto abbiamo acceso tutti allora qua ci deve essere un modo per scendere no non c'è un modo per scendere mi è iperculato io non so come prenderlo ragazzi sto coso cioè è veramente strano di qua? si di qua ok vediamo eh vedete cioè non è cattiva questa cosa adesso l'homino non lo usiamo per carità però può far comodo anche perchè io volevo prendere del bradipo con la magia e così la prendo non so quanto devo avere di oms spero di dover aumentare di un punto perchè sennò siamo nella merda livello a farlo adesso è un casino e quindi ci siamo dai dai sono contenti dai è andata come volevo alla fine qui ci deve essere un kodama non lo vedo oh salve kodama è proprio piacevole vederla e spero di averli presi tutti finora ok scusate eccomi allora con uno starnuto improvviso lei non mi piace per il cazzo sa? ok brava oh cazzo brava tu si che sei un uomo l'ho sempre detto eh signorina salve allora vediamo come possiamo fare cioè non mi dispiace giocare in terra però c'è troppo casino mi potrei confondere qui c'è gente non si va da qua vero? magari c'è una via no sembrerebbe proprio di no quindi andiamo di qua e aspettiamoci il peggio ok lei mi piace un botto perchè lui di solito si gira qua c'è qualcosa la polvere la polvere ok altri sopra ah c'è la scala ok e qua siamo la cioè non siamo la perchè ancora non so come arrivarci c'è un albero da buttare giù quindi sarà una shot carta panico diciamo ma vediamo se c'è un kodama intanto giro un po' non c'è un cazzo andiamo sopra andiamo un po' qui ricordo vagamente dalle scosse run era un bel casino andare avanti pietra dell'anima 2 ma dell'anima proprio era aspettate che qui c'è uno stronzo lo salve lei non è capace a tirare gli ammai dietro nessuno eccoci qua quindi siamo a posto vediamo se ci sono altri perchè in culate ne ho già piaciuto troppe e non sono piacevoli a meno per me salve facciamo così non farà tanto non farà tanto tutto lì da cazzo grazie gentile ok e siamo a posto vedete e sono serviti li usati tutti per carità però almeno ci siamo risparmiati di fare una figura di merda io dico che non è male questa cosa eh vabbè oh salve lei non mi piace per un cazzo io farei così porca vacca eh pensavo di aver evitato se vorrei essere sincero ma voi fate qualcosa oppure state lì a guardare eh ci fate un cazzo cosa fai lì ma non si fa così signorina eh che cazzo o cazzo venga qua signora signorina o cazzo o cazzo o cazzo o cazzo o cazzo niente rimasta lì viene a certo punto no non viene vediamo se facciamo così ci ho provato adesso la signorina che non mi piace vedere sotto la gonna però proprio la faccia non è proprio il massimo diciamo ecco qui se viene su prima cazzo forse si libera esatto si è liberata e ovviamente Anzo si è sbloccato ma porca miseria che cazzo di situazione ostica ma io chiedo se facessi così eccoci l'ultimo posto signorina si è fatta male siamo tutti felici oh il ninjitsu si diverte così che se volete facci no signore no lei non mi piace per un cazzo eh vabbè ma se io andassi qua così succedono tutti quanti non è meglio no eh si diverte che si è liberato perfetto ma che mi sono liberato a posto a prendere le botte eh eccoci qua oh tocco del tango ah buono una cosa ottima bene è andata più che bene abbiamo limitato i danni più che potevo questo lo uso ma anche se non mi serve lo uso vediamo un po' non ho visto se c'era un kodama ovviamente sono un pirla e non ci facciamo niente allora vediamo se da qua si va da qualche parte effettivamente un kodama qua c'è però non è qua o l'ho cannato dice che in linea d'aria qua secondo me è sopra così è naso però sopra io non so come andarsi non lo so però è la ho paura che qua ci separiamo mi ricordo ad un certo punto che ci separavamo tutti quanti ed era un bel cazzo di casino scusate un attimo il telefono eccomi qua ne ho approfittato anche per vedere un mio video per vedere dove era la cosa il kodamo il kodamuccio ora mi sono già scordapuccio era più o meno ah si avevi detto che era qua infatti mi sono fermato qua però c'è effettivamente qualcosa qua ecco oh cazzo e io questo come l'ho batto porca miseria eh io non lo sapevo fate una bella figura di merda vero? vabbè ci vediamo dopo ok ci siamo vi garantisco che è una situazione veramente di merda non so come prenderlo ok eh niente ci ho provato eh ci ho provato e riprovato ma mi mancava uno sputo se riuscivo a prenderlo ce la facevo per tutti gli armita è una situazione veramente di merda chi l'ha messo lì deve essere un gran figlio di troia ok ci sono speriamo bene si si e niente eh mi ha fatto cadere eh che cazzo dammi tempo e niente faccio più fatica a uccidere lui che è un boss incredibile vediamo se eh no neanche una bomba posso attirargli dopo mi fa cadere subito allora se io non lo loccassi e andassi via ci sto chiedo eh eh che cazzo niente non ce l'ho fatta due addirittura ma siete fumati nel cervello e com'è alibato queste parolacce e niente scusate ma l'unica cosa che mi viene in mente ovviamente non ce l'ho perché non ce l'ho però lo so è brutto però eh visto che l'ho trovato voglio usare usiamo arma vivente e che vi devo dire purtroppo è così magari lo calo e ora cerchiamo di non farti gol di merda io non mi sposto vai l'ho ucciso credibile cioè io con l'arma vivente non l'ho ucciso mi rendete conto vabbè voglio dire solo questo allora questo qua me lo posso gestire o meglio eh cazzo ok vai perché se ci sono loro non è un attimo cioè io sono veramente perpresso era facilissimo solo che purtroppo lo spazio vedete quanta roba buona c'era perché non andarci lo spazio era veramente di merda e quindi sì salve cosa muccio è molto bello mi ha fatto sudare 7 camicie per raggiungerlo spero non si abbassero la penola vabbè e qui siamo dall'altra parte dove c'era anche il il cosa ovviamente si arrivava anche da altri luochi ma io non conoscendo lo dungeon cosa vi devo dire vi devo dire un cazzo c'era un certo momento morivo e qua non è che mi piaccia tanto lui eh insomma io lo dico eh poi dopo uno dice quello che vuole ecco ovviamente gli ho preso il corno quante possibilità avevo di fare tutto ciò poche però sono riuscito a farlo è stato bravo eh ok anzi mi ricomando sta a guardare perché è uno spettacolo meraviglioso guardare non è che prendo le botte eh oh porca vacca si è sudato per fare sto kodama eccoci qua guardate quante roba ho fatto meno male così me l'ho ridata e mi sono tolto il pensiero insomma allora vediamo cosa c'è di bello ovviamente c'era qualcosa io l'ho perso eccoci qua vai anche qua anche le caccate più piccole sembrano buone cioè detto così è uscito proprio male però insomma diciamo che diciamo che se io facessi così può darsi può darsi che possa pare più così ok è stato rischioso eh però ce l'ho fatto dai sono contento andiamo perfetto questa sala di kodama c'è un kodama effettivamente effettivamente mont signor kodama savi no è qua è la mi stai facendo sudare eh questo dungeon è veramente tostico ma non perché sia difficile eh è perché tant'anno perché fanno troppo danno rispetto a quello che le faccio io e io di quello non di quello che faccio ma di quello che posso subire le male conseguenze salve ecco così doveva andare prima no a cazzo in culo salve lei non mi piace per un cazzo e così siamo morti ok questo si può gestire una piccola bombina cazzo c'è più su tutte e tre ok una bombina dicevo ecco qua e non fa male a nessuno eh mi aiuto io signora mamma mia è un dungeon veramente siamo in tre è vero ma io non riesco a subire tutto il danno che mi fanno oh salve c'è qualcosa andiamo ciocca non lo so la butto lì pietà dell'anima vabbè grande poi eh insomma non è che sia piccola c'è chito grande se la grande no allora qua cosa ci sarà di bello un cazzo di niente ma qua c'è qualcosa va fischia che ti passa aprita però ventaglio ventaglio potrebbe essere una cosa buona guardando quante armi mi hanno preso quante armi guardate cioè io non ho visto no non c'è niente fuoco ma c'è della roba che è atomica qua io ventaglio ancora non lo vedo quante roba ho preso insomma l'amuleto ommio si amuleto è quasi sempre ommio magatan ventaglio fortuna più 23 effetto difesa danno vento arma di vento si interessante però insomma neanche tanto ah fatto adesso possiamo andare a fare l'ultimo pezzo c'è l'ultimo pezzo questo qui va questo si fa bene dai ok si fa bene se non arriva qualcun altro ovviamente ok salve signora sei proprio stronti sa ecco così almeno abbiamo fatto salve signorina lei si è fatta malo l'aiuto io signor non si preoccupi uff mamma mia eh ma allora mi vogliono tutti male qui no io mi vado a farcire qua ci diamo una bomba qua ogni tanto siamo tanto sono lì che tanto se mi frega insomma ecco qua signore salve dovrei un attimo dire ma è rincoglionito proprio quello eh bisogna dirlo vabbè piacevole eh come cosa per carità eh vedere lui che cade giù è veramente piacevole acqua sacca che dovrei usare non lo uso mai ma troppi slot troppi slot si posso usarne di più ma insomma bene abbiamo faccionato tutto probabilmente sì io penso no perché di là non sono andato che cazzo dico allora dobbiamo andare di là quindi se vado di qua nessuno si offende vero ok e questo è quel famoso posto dove c'era anche il famoso shortcut no chiedo eh non so chiedo sempre salve ok tirato i momenti mi prendeva adesso mi ha preso mi ha fatto anche malo mamma mia che malo che mi ha fatto uff cavoli cioè qui se ci prendono è quasi morte eh salve lei è bello bello soprattutto quando muore oh cazzo io stavo cercando quello shortcut dell'albero oh eccolo qua così se in caso moriamo siamo due passere e siamo in posto uff mamma mia ah non ho visto se c'è ancora da scusate mi avete ragione siamo qua chi ci ritorna più dopo qua non c'è niente qua non c'è niente e qua non c'è niente ok andiamo pure via oddio se è dura sto posto c'è piccante dura a cercare di non morire perché se fossi off camera me la prendo con camera se muoio muoio chi se ne frega devo cercare di fare un gioco un po' pulito eccoci qua quanto abbiamo? 600.000 possiamo livellare? no 700 vediamo allora qua mi ricordo molto vagamente perché me lo ricordo un po' i vari dungeon qualcosina mi ricordo ogni tanto sono vecchio eh però non così tanto insomma incoglionito così tanto no però adesso qualcosina mi ricordo eh mi ricordo che si muore ma comunque si andava eh perché 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 si andava io mi ricordo che si andava e poi non si è andato fatti vedere ma no e me lo doveva dire qua se c'è un Kodama non c'è va bene a posto quindi sono incoglionito ho avuto la prova effettiva va bene salve signor lei è molto bello sa e andiamo avanti adesso dobbiamo perdere i nostri amici eh già eh già abbiamo persi purtroppo siamo da soli va bene andiamo avanti mamma mia quanta salita e qui se cado sono cazzi da cacare oh fly eccoci qua mamma mia apriamo? ma si apriamo dai ah qui c'è l'olignone dei boss ok perfetto io direi che possiamo chiudere in bellezza mamma mia che sudata che sudata benissimo ragazzi come al solito vi invito adesso anche al commento se piacerebbe se hai fatto sapere cosa ne pensate adesso vedo solo tra civa ciao ciao